Commissario, commissario! In serio? Pensaci a Montalbano! Commissario Montalbano sono! Tutto Montalbano in DVD, i quattro inediti e gli altri film in una esclusiva edizione da collezione in edicola dal 7 settembre con Corriere della Sera Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non distinguere più la verità né in se stesso, né intorno a sé Il nuovo romanzo di Gianrico Carofiglio Il ritorno di Guido Guerrieri Certi giorni ci si sente proprio di muro! L'incredibile Urca Il nuovo libro di Luciano Letizento Mondadori Urca! Scopri il gran finale dell'epica trilogia The Century Fino al 30 novembre Chi legge? Non aspetti tempo! Katniss è tornata L'emozione di Vampa Comincia la sfida finale Lasciati conquistare Hunger Games, il canto della rivolta La conclusione della trilogia In libreria alla prossima La prossima Grazie a tutti